Torna dopo anni nella prestigiosa cornice di Villa Olmo Mini Art Textile, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale, giunta alla 31esima edizione e coorganizzata con il Comune di Como. L'esposizione è in programma dal 16 ottobre all'8 gennaio 2023. La scelta del titolo Rosa e Chemico nasce dalla volontà di dare vita a nuove forme di positività ed energia. Nel salone da ballo della Villa alle mie spalle troverete 54 mini tessili che sono stati selezionati da una giuria su un concorso aperto dove chiunque poteva partecipare, la giuria presieduta da Mimmo Totaro, nostro cofondatore, insieme a Paolo Bolpagni, professor Paolo Bolpagni e Sergio Gaddi. Nelle sale invece al piano terra ci sono numerose installazioni che vanno a abitare ogni luogo. La mostra vede la partecipazione di nomi internazionali che per la prima volta espongono a Como. Artisti che provengono da tutto il mondo come ad esempio Manuel Amezzoia alle mie spalle che ci ha raggiunto da Buenos Aires con la sua opera in tessuto non tessuto, rosa naturalmente, alta più di 14 metri. Ma poi altri nomi importanti quali Ikshan Adams, protagonista attualmente a Latte dei Sogni, la Biennale di Venezia, Bianca Bondi, Marinella Senatore che espone qui otto arazzi che soltanto un mese fa erano al Palais di Tokyo a Parigi e poi ancora Pie White con un grandissimo razzo di 6 metri per 3. Da questa edizione il premio per l'opera migliore viene intitolato alla memoria di Nazarena Bortolaso, cofondatrice della manifestazione scomparsa lo scorso aprile. Noi abbiamo continuato in questi mesi di grande lavoro con il suo spirito che ci seguiva, quindi sicuramente una mostra fatta con lei, per lei.